Ecco Cristian, è una sconfitta che lascia l'amare in bocca comunque dopo una benissima prestazione? È la doppia amarezza, sì, purtroppo, perché per com'è venuta, dai, il novantesimo in dieci uomini dispiace tanto dopo questa prestazione comunque a tratti di carattere, a tratti di qualità che tutta la mia squadra ha disposto, dispiace veramente tanto. Ne approfitto per fare i complimenti a Stefano Taroli perché è stato un grande, è stato, se lo merita, perché è un ragazzo giovane, in gamba, che ha voglia. Per come ci eravamo presentati, rispetto, dispiace tanto. Dopo qualche risultato altalenante si può ripartire da questa prestazione? Si deve ripartire, ma come ogni partita bisogna trovare sempre il positivo perché siamo un gruppo che lavora e che lavora in funzione sempre della prossima partita. Oggi abbiamo capito che affrontare ogni partita come un derby è importante, per cui la prossima bisogna prepararla proprio così come un derby e trovare una zaccheria importante. Ecco, anche viste le defezioni, qualche problemino fisico per qualcuno, le squalifiche e l'arrivo comunque anche del nuovo direttore sportivo, secondo te di cosa ha bisogno questo Foggia? Ha bisogno solo di questa squadra di restare calmi, di cercare il positivo in ogni partita e oggi abbiamo visto, almeno per quanto mi riguarda, un aspetto importante, cioè quello che preparare ogni partita con questo carattere, con questa vehemenza è davvero importante, ci porterà lontani. E' chiaro che bisogna tenere la concentrazione 95 minuti perché purtroppo vediamo che in questa serie B fa la differenza.